La partezza di mezzo Ma che cazzo Sto guardando Ma perché si imparati con le gomme fredde? Sì, si è infatti, dai Perché non ho già il moto aperto Poveracci di merda Ok, è andato a cazzo là Oh, chi è? Ma che cazzo Che cazzo mi ha fregato? Io non ho visto di niente Qualcuno mi ha toccato Mi sono affetti Voglio mettere pressione Si chiamano strategie di gara Faccio come Come la lancia delta quella nuova Che c'è l'epati C'è il pesce che dice l'epati L'avete visto il dottone nuovo No Su YouTube ce ne sono Finché di cotte di crudo Si, l'ho visto Oh, scusa 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 Tombola C'era Scusa Scusa Domenico, rallenta! Ora ho capito come fa ad andare così forte, lo sto guardando, fa delle traiettorie perfette. Si, col pad non sente niente. E non so qui. Tu puoi giocare se non puoi giocare, no. Lo sento a forza e ti devo stare qui. Lo sento. Prende la spensioa. Buon attimo, è il tempo di riuscire un po' un po' Sei molto consapevole, ora puoi uscire un po' un po' un po' un po' Eeeh, troccia essa! Eeeh, da lontano dire. Perfè si è mangiato la gara. Eh, lo so. Ho tirato una trambata che mi ha demolito. Non ho visto. Eeeh, da lontano dire. 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 3 secondi di penalità ma veramente ragazzi se volete posso rallentarvi si 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 vai 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 tutti addosso a Domenico vai gira quasi più a secondi più veloce del secondo è mostruoso sta frenando non giro non dirlo dai Domenico quali cittiusi dai diccelo a tutti ma c'è un'etra di storia perfetto va beh il pad e ce l'ho pure mezzo rotto dove cazzo stanno? hai visto questa è stata la iella che ti stiamo portando tutti tipo si dovrebbero venire ai campi ai pollici tipo si dovrebbe spegnere il computer immediatamente o ti salta la corrente tipo dovrebbe impazzirti la scheda video che è un riscaldamento eccessivo da papà me la compri per una scheda video che mi si è bruciata nooo 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 sto migliorando il 10 pure certo certo lui mi trovi le palle comunque ragazzi visto da fuori è incredibile come se fate tre quarti di curva in sottosterzo per poi fare l'ultimo in sottosterzo peccato che non ci sei porca buttana ci divertirà porca troia si ok questo Natale un gruppo di continuità da 1200 Voltampere attivo attivo eh ciao regalare ok UPS Riello no no che Riello oh ah ecco allora si Riello che cosa dico no ma il Riello pure è buono dove eh vabbè ma l'avevo messo con me che ero come un bella bim ah vabbè quello si no ma quello pure è buono si ma voi là davanti ma aspettate mi diverto un pochino visto che il caro Gary mi ha toccato il posteriore e mi ha fatto schiantare a primo giro il Gary che aveva aggiunto il secondo che non so chi sia io io ok grazie adesso riesco oggi con un compagno voi avete preso la penalità eh eh sì ho 5 secondi non mi dire niente ahahah io ho 2 giri praticamente quanto vi manca? 10 su 15 per me no perchè volevo dire a Dome che hai 8 litri dove sei pronto? ahahah ho 2 giri in più di carburante faccio da ingegnere di pista attenzione Gary navigatore dove si trova Gary? eh è al tuo lato ok dietro leggermente sulla destra ok ok lo passo in destra ok perfetto grazie che spettacolo aspetta che mi ci metta a culo vai 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 a culo io te lo sei mangiato il polpo? si 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 mio è favoloso dimmi Fraternità della Pagliarmitani buttalo fuori a Gary ahahahah ahahahah ahah 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 e questa gara va su youtube per come la stiamo riprendendo raga ahah c'è Michi che sta tagliando l'erba non so che cazzo sopravvivendo ahahah ha appena i dati un secondo per cosa? ahah ahahah 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 ahah 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 ahahah ahahahah ahah 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 ragazzo non potevo premere la paletta perché giustamente c'aveva il volante tutta la cazzo di cano vai che lo riprendi vai vai spingi puttana di una macchina ragazzi dietro dome che devo fare ecco l'hai risolto e non l'ho neanche fatto apposta hai fatto il tuo rovere ma ti ripiglio e non aspettare sarò anche l'ultimo ma ti ripiglio ma magari e ci provo se non ti aspetta il giro dopo non è un problema vai buttalo fuori fai dritto alla curva fai dire da fabri cosa gli ho combinato oggi vaffanculo anche senza la ruota ma presto fai dritto alla curva che è la vostra prima scelta so far lui mi ha sbattuto fuori io sono arrivato fuori dal t1 ho tagliato dentro la curva a tipo 190 all'ora dai io non ti ho sbattuto fuori ti ho dato solo una sportellata solo? in che posizione è? fabri scusate non provare a rallentare no no io non rallento accelero in curva ma accelero dobbiamo giocare da chi apparello? non ho capito ma che cazzo fa? ho cambiato l'ho sbagliato la marcia approfittare che ci sono dei doppiati da davanti ma chi è che si è ritirato? nessuno a parte me ma come noi prima eravamo in 9 poi siamo in 8 e appunto io non posso giocare no fino a poco a tre giri fa eravamo in 9 no 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 sempre 8 allora si è rincoglionito il mio project vabbè 3 litri beh si a voglia suone meno di un viso eh non so quanti giri mi mancano siete al quindicesimo si minchia mi sono girato vabbè potterò solo allora sia per me ti sta aspettando hai detto il box no hai detto i paletti via vai Ma la regina vuoi papicare? Mi regala la macchina Ma vero sei arrivato, eh? Mamma mia che schifo Già, siamo in due Siamo in tre Bella, bella gara Fidel l'ho fatta da solo Appena partito mi ha tagliato la strada Sono uscito di strada Io al secondo giro Gary mi ha fatto girare E da l'ho fatto il solitario C'è la ripresa dal mio specchietto L'hai visto? L'hai visto come mi ha fatto a cappottare? Se ti arriva di due